Questo prodotto è un versatore per le dame di vino da 5 litri. Questi ricci li abbiamo fatti un po' più accentuati lì, abbassati pure un po'. Questo era uno dei prototipi. Così si carica il versatore. La dama si assicura questa molletta. Quando compravamo le dame di vino, soprattutto mia madre quando lo usava per cucinare, quando è pieno, comunque è scomico, comunque è pesante. Allora c'è uno di mente a me e a mio padre di fare questo versatore di stile ferro battuto. In questo modo è semplice e leggero. A presto. 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 Grazie a tutti.